Gira, palla per De Grosso, arriva in zona tiro, prova a calciare Comini, molto che favorisce il Palermo e la ripartenza, proprio di Traikoski, che arriva quasi in zona tiro, prova a calciare, dice un po' strozzato, è pronto a partire Traikoski, che va col testo a giro, Audeano mette la mano insieme alla... Va bene, Iaialo prova ad andare verso la porta, respinto il parole, poi Muraschi da lontano, Audeano la tocca, non la blocca e la manda in calcio d'angolo. Avanza lui, tocca dentro per Iaialo, che va a mettere la palla centrale, la Gumina, grande chance, destro! Vantaggio del Palermo all'improvviso, la Gumina, 53esimo, Rasanero avanti al perso, all'improvviso, la Gumina. Sì, ma si era visto che era cambiata qualche cosa, si ha detto... Buona transizione difensiva per il Veneza, ma la palla a Chizabona per Traikoski, prova ad andare in porta! E non va, lontanissimo! Dentro la leggera del pallone, Ritteri, lascia Marzullo, prova a calciare Marzullo! E il guarda è l'1-1, la palla in porta! Stava entrando perché, ecco, ma i due punti sempre un'altra volta! Stulanz a mettere la palla in mezzo, c'è Domizzi che colpisce, salvataggio sulla linea! Occhio qui ai minuti finali perché Coronado parte, punta la leggera, vuole andare verso la porta! Controva lo specchio, ha avuto un errore incredibile di Modolo in uscita che regala il pallone a Coronado! Coronado è solo, Coronado! Coronado sbaglia! Audero salva! Pour 얘�返are il pallone a Colone Inscrated Inscreviare le tue wallos, Sparezco qualche attrone con l'ar Madrid a patrimonio di Bolton Grazie a tutti.